cari amici questa sera vi voglio presentare la mia top list personalissima di libri che regalerò a natale al quinto posto un libro che purtroppo non ho con me non vi posso mostrare è la strana morte dell'europa edito da neri pozza l'autore douglas murray un giornalista inglese che qui demolisce tutti i luoghi comuni del politicamente corretto a partire da quelli del relativa all'immigrazione al quarto posto metterei questo libro curioso è un oscar bondadori appena uscito l'autore george orwell il titolo verità e menzogna qui non c'è niente di inedito ma questo libro è stato costruito mettendo assieme tutti i brani che vengono dalla narrativa ma anche dall'attività giornalistica di george orwell tutti i brani in cui appunto orwell si interroga sul rapporto tra verità e menzogna tutto quello che c'è da sapere sulle fake news era già scritto qua dentro e vi voglio leggere una frase fulminante tutta la propaganda e menzogna anche quando dice la verità proseguiamo e siamo quindi al terzo posto al terzo posto metterei questo libro veramente strano che mi ha però colpito molto l'ha scritto leonardo colombati per mondadori è una scelta di testi del boss di cui io non sono un fan tradotti da colombati a parte la quantità incredibile di notizie che colombati riesce a darci su ogni singolo brano la bellezza sta proprio nella traduzione dei testi e quindi scoperto che il boss ha scritto sprinstein ha scritto dei testi che si possono leggere anche senza la musica cosa che non è da tutti e colombati ne ha scelti 100 e li ha montati in modo che sprinstein racconti una sorta di romanzo l'operazione strana però devo dire molto ben riuscita molto originale a questo punto siamo al secondo posto e troviamo al secondo posto oriana fallaci la luna di oriana la luna di oriana raccoglie tutti i reportage che la fallaci scrisse da cape kennedy che oggi si chiama cape canaveral e in questi reportage lei raccontò tutta l'epopea dei viaggi verso la luna fino alla conquista della luna e anche oltre una testimonianza di prima mano perché lei conosceva personalmente gli astronauti e la scrittura ovviamente quella della fallaci brillantissima qui non c'è niente di politico ma è pure divertimento al primo posto metterei un romanzo che torna pubblicato da neri pozza in origine era voluto da leo longanesi il romanzo è il cielo rosso di giuseppe berto uno scrittore che non ha raccolto diciamo dalla critica quello che meritava perché diciamo gravar su di lui una specie di condanna in quanto apertamente di destra il cielo rosso è stato scritto in texas mentre berto era prigioniero in un carcere militare era stato fatto prigioniero in africa fu portato in texas e in texas stava nella parte di carcere dove non dove risiedevano dove erano prigionieri i non collaboranti cioè quelli che non volevano collaborare con gli alleati in nessuna forma da lì dal texas riesce berto a immaginare e in maniera splendida il bombardamento alleato di treviso del 44 berto appunto descrive la città in rovina ma concentra la sua attenzione su un gruppo di ragazzi che si trovano a vivere una vita da adulti senza avere gli strumenti necessari di conseguenza cioè però berto a questo di veramente notevole che non divide l'umanità in buoni e cattivi partigiani miliziani tedeschi alleati lui mette in scena dei sentimenti universali l'amore l'osso il disprezzo la voglia di uccidere la voglia di arrendersi e addirittura di farsi uccidere sono tutti i sentimenti universali che rendono questo libro un vero capolavoro qualcuno addirittura lo preferisce a il male oscuro io li prendo tutte e due un vero capolavoro un vero capolavoro un vero capolavoro